stia cazzarola per un pedo la cazzarola per un pedo aspetta a tirare la mano vai ma perchè mi dovete fare queste fatiche? mi ho detto a vito non volare mai la scendata non dirgli un caso che si trova bisogna aiutare a salire e non a scendere ci sono smollate anche le maniche qui l'hanno rimposto